BOOOOAAAAA PERDE PERDE BOOM BOOM Non cazzi, non cazzi BOOM 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 Questa è quella no eh Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Come and vai! Oh 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 oh! Calente, bro! Anè, fai il video Sì, non è vero Ma dove parte, non è vero Sì Lo vediamo pronto Vabbè 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.